In tre minuti, quotidiano di cronache politiche a cura di Riccardo Decorato, assessore alla sicurezza e polizia locale di Regione Lombardia, dal lunedì al venerdì ogni sera alle 19.15. Non mancate al mio appuntamento quotidiano. Benvenuti amiche e amici di 7giorni.info. Oggi è venerdì 8 luglio e abbiamo diverse notizie che riguardano Lombardia e Milano. A Garbagnate vi ricorderete che nel marzo scorso fu gambizzato un marocchino. Oggi è stato arrestato un altro marocchino, guerra tra spacciatori, che spacciavano nel bosco del Rugareto, che è il bosco che praticamente vede la presenza nella zona del Legnanesi, in Rescaldina in particolare, perché dentro quel bosco c'è una stazione ferroviaria, che è uno dei centri di spaccio. Questo marocchino aveva ammazzato un 54enne senegalese e quindi era stato ucciso alla stessa maniera. Il 24 settembre invece un marocchino di 30 anni. Insomma, c'è una serie di sparatorie all'interno di questo bosco dove per entrare bisogna essere escortati dai carabinieri. Io credo che sia necessario che all'interno di questo bosco, come in altre aree boschive, sono 38 le aree boschive della Lombardia, piene di spacciatori, sia necessaria la presenza dell'esercito. Abbiamo uomini e donne che sono nelle caserme, abbiamo 70.000 uomini e donne che sono i nostri militari di un esercito professionale, che possono essere impiegati e non capisco perché dobbiamo tenerli nelle caserme, mentre fuori succede di tutto e di più, come nel bosco del Rugareto. Poi abbiamo, oggi sono iniziati gli stati generali della Cannabis a Milano per volere di un consigliere del PD e del PD che sta facendo di tutto e di più alla Camera per poter approvare la legge che liberalizza la Cannabis. Proprio oggi la Guardia di Finanza ha arrestato 11 spacciatori che nascondevano i stupefacenti persino nelle Camere dei figli. E' una vergogna, ma ormai ci siamo abituati a tutto. Questo è il centro-sinistra che oggi apre a Milano questa bella due giorni per parlare di Cannabis legalizzata. Ricordo che anche la favoletta che raccontano il PD e molti altri insieme al PD, che dare Cannabis volrebbe dire colpire il business delle mafie è una grande fesseria. Lo ha detto persino e lo ha detto autorevolmente un magistrato che di lotta alla mafia ha fatto la propria vita, che è il dottor Gratteri, procuratore della Repubblica Tanzaro, che ha smentito che la regolarizzazione della Cannabis colpirebbe il business delle mafie. Gratteri lo ha totalmente smentito. E quindi anche qui il PD vuole giovani strafatti. E' uno Stato che incassa sempre di più. Questa è la regola di cui oggi si parlerà o si sta parlando in questo grande summit di liberalizzatori della Cannabis. Poi abbiamo, la Giunta ha deliberato un'altra area pedonale, un'altra ZTL che servirà solo a fare cassa per sala e compagni, perché è una ZTL qui all'isola, si pedonalizza anche via Borsieri, l'isola è una zona molto frequentata ma evidentemente non va bene. E quindi subito ZTL bastonate ai commercianti, ma anche i residenti sono contrari. Tutti contrari, ma Sala per fare cassa non ha altro strumento che quello di tassare gli automobili, gli automobilisti. E quindi anche qui Sala fa il green sulle spalle dei milanesi che pagheranno anche per entrare in questa parte di Milano. Ultima questione, la Polizia Angora oggi ha fermato un'altra borseggiatrice in metro e non capisco perché l'ATM non mette le foto di queste signorine che fanno le borseggiatrici che vengono arrestate ma poi escono dopo qualche ora. Quindi la Polizia, la Polmetro fa notevole, deve fare grandi sacrifici per cercare di arrestarle, ma basterebbe anche fare annunci sui mezzi pubblici, annunciare la presenza di queste bosnie anche per evitare ai milanesi di avere furti e di essere, di avere le mani di queste ladre nelle loro tasche che li derubano. E quindi la domanda è perché non si fa come faceva il centro-destra? Avevamo istituito il nucleo tutela trasporto pubblico, avevamo chiesto la presenza e avevamo messo sui mezzi, sui metro anche i poliziotti in pensione e poi infine anche l'esercito nelle stazioni di Loreto, di Cadorna, di Garibaldi e in altre stazioni della metropolitana. In questa maniera si evitavano tutti questi guai che con il centro-sinistra sono iniziati. Ecco, io vi auguro un buon fine settimana e arrivederci a lunedì. ci rivediamo tutti insieme, noi di 11. Buona serata a tutti.